buongiorno a tutti ben ritrovati qui su Radio Rosso Nera è il primo editoriale del lunedì di questa nuova stagione o meglio in realtà la stagione è iniziata il primo di luglio del duemilaventit tre ma ormai siamo a poche ore dall'esordio del Milan in campionato questa sera a Bologna scende in campo anche il Milan di mister Stefano Pioli e vedremo come andrà l'esordio del del Milan dopo che alcune delle bigle abbiamo visto sono andate bene alcune particolarmente bene hanno vinto senza grandi problemi le romane un po' meno le romane un po' meno ma tant'è insomma quelle che forse ci ci vedono più con più preoccupazione pensiamo per per il prossimo anno hanno vinto ovvero l'Inter la Juve e il Napoli prima di partire con l'editoriale apro e chiudo parentesi lo vedete oggi nella sua versione beta ancora eh eh quella estiva quella che insomma l'ho vista anche un po' a nascere dalla dall'unico prossimo lo vedrete con un'altra eh con un altro formato grafico vedete una maschera nuova vedete l'inserimento dei vostri commenti l'editoriale precedente insomma eh vivrà non solo soltanto del mio faccione delle mie chiacchiere ma anche dei vostri commenti di una vesta grafica diversa di una vesta grafica che resterà qui in fianco a me a supporto per tutto il tempo dell'editoriale quindi avremo modo di vivere tutta la stagione ogni lunedì che sarà in pratica una sorta di commento alla partita e l'weekend a meno che il Milan come succede oggi gioca in ampio posticipo ovvero quello del eh lunedì come al solito però io faccio un breve una breve carrellata di quelle che saranno gli argomenti di eh di questo editoriale partirò partiremo quelle famose ormai partenze intelligenti quelle che contraddistinguono questo periodo estivo vacanziero quelle del ritorno in questo caso verso verso le città ovviamente una declinazione calcistica del titolo eh sarà una piccola parentesi che faremo su su tonale di chietelare eh senza senza grandi polemiche però eh siccome è oggetto di discussione mi sembra anche sbagliato girarsi dall'altra parte e non parlarne eh torneremo a parlare delle novità del Milan di di mister Stefano Pioli che abbiamo visto negli ultimi amichevoli che vedremo già questa sera se ci saranno lo vedremo e appunto cosa aspettarsi dalla partita di questa sera ne parliamo con la probabile e quant'altro e poi eh chiuderemo con eh quello che è il mercato l'appuntamento un po' eh fisso di obbligo di riscatto continuerà perché eh obbligo di riscatto continuerà a esserci fino al primo di settembre e dopo dal due o forse il tre perché insomma il due di solito l'obbligo di riscatto è l'obbligo di riscatto definitivo quello che chiude un po' il cerchio ed è il primissimo bilancio post mercato dal due tornerà ad esserci il classico ormai eh mattino Milan che ci accompagna fino al primo di gennaio quando il mercato poi riaprirà lo state vedendo lo avete visto il palinsesto di di rossonera è tornato praticamente eh in pianta stabile in tutto il suo eh diciamo così eh nella sua forma più completa non troverete questa sera filo rosso nero perché c'è il pre di Bologna Milan come non troverete la live reaction però vi motivi insomma siamo ancora un po' a servizio ridotto e quindi non ci siamo tutti ancora eh abili arruolabili in radio e quindi la live reaction non ci sarà ma per il resto da oggi in poi gli appuntamenti sono quelli classici quindi i tre appuntamenti delle sette del mattino quindi questo l'editoriale la mattina del mercato e eh l'appuntamento con Davide Giovanzana e Leonardo Menimi con la gamba tesa del venerdì poi tornerà come al solito obbligo di riscatto lancio delle tre il talk delle sedici e filo rosso nero del diciannove sempre con Carlo Pelle Gatti non ci sarà domani per ovvi motivi la stanza di Bottoni la recuperiamo come al solito il giorno successivo alla partita e quindi martedì alle ore diciannove e quindici la stanza di Bottoni da prima di questa stagione con mister Emanuele Bottoni il preambolo è stato lunghissimo e quindi eh direi di partire velocemente con quelle che è l'editoriale vero e proprio eh mi dispiace mi apro con un piccolo dispiacere eh su quello che sto vedendo un po' su sui social magari a qualche tifoso del Milan eh è dispiaciuto anche per per il trattamento riservato in parte i giocatori in parte a alla vicenda e alle vicende che hanno ricordato eh Tonale De Chetelare mh io onestamente non sono nemmeno uno di quelli che va a vedere ah caspita Tonale oggi gioca veniamo a vedere cosa ha fatto ah De Chetelare oggi gioca vediamo se ha segnato eh stiamo un po' andando a fare la corsa a vedere come sta andando il giocatore venduto tanto per dimostrare ah abbiamo fatto bene a vendolo bravi dirigenti oppure ah hanno fatto male cattivi dirigenti eh Sandro Tonale l'abbiamo imparato tanto forse anche troppo e quindi non mi dilungo nemmeno tanto su su Sandro credo che la la vicenda ne abbiamo come detto parlato tanto e alla fine si è si è stata si è andata bene per tutti così eh per il Milan in primis che ha ottenuto gran parte dei soldi che poi era investito nella campagna acquisti e senza di questi difficilmente si sarebbe potuto sistemare bene il resto della squadra in parte come è stato fatto e quindi buon per il Milan che è riuscito a piazzare Tonale a quella cifra e poi ha rinvestito la la cifra per fare mercato buon per Tonale che è andato in una squadra di premier di alto livello comunque che gioca eh la Champions League l'anno prossimo che gli farà guadagnare tanti soldi eccetera eccetera giocherà bene giocherà male mi interessa giusto perché abbiamo voluto voluto e probabilmente vorremmo bene a Sandro Tonale a prescindere da come è andata la sua avventura al Milan ma stare lì a fare le pulci su ha fatto un passaggio in più un passaggio in meno ragazzi non facciamo gli interisti questa roba qui lo fa chi è dall'altra parte il naviglio tendenzialmente non lo facciamo anche noi non scendiamo in queste cose non scendiamo in queste cose nemmeno per decetelare non mi sentirei nemmeno di di dare torto ragione a chi in questo momento prende le parti di un di un caso o dell'altro Charles l'anno scorso ci ha messo del suo per non essere all'altezza della situazione del Milan forse non ha retto il peso di fare il doppio salto dal Bruges quindi non tanto la realtà Bruges ma la realtà di chetelare Bruges cioè una realtà molto vicina a lui quasi familiare dove lui praticamente ha conosciuto solo e soltanto quella nel suo nella sua esperienza calcistica ed è passato a giocare al Milan in uno stadio molto più pieno con tanta pressione con i titoli dei giornali eccetera 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 dall'altro e anche qui in tutta onestà l'abbiamo detto anche più di una volta non credo che abbia mai incontrato i favori dell'allenatore io vedo ogni tanto i commenti dei tifosi che che ne parlano ma non ha avuto tante chance sì vero nella prima parte di stagione per un mese e mezzo circa due forse dopodiché quando all'incirca ha perso il posto da titolare la prima volta poi piano piano in pratica non è stato messo più da titolare da mister Stefano Pioli se non in quelle partite dove praticamente giocavano le seconde linee ed era insieme ai vari orighi, rivici eccetera ma come detto non ne faccio né una colpa né uno né l'altro probabilmente ci ha messo buona parte lui buona parte Charles buona parte la posizione in campo buona parte la pressione buona parte io credo che in una parte delle colpe ce l'abbia anche l'allenatore in questo ma insomma questo è il mio pensiero personale quei tagli che oggi magari abbiamo visto in questo secondo tempo di Sassuolo Atalanta probabilmente al Milan non riusciva a farli non li avrebbe fatti per dove giocava ma tant'è è finita qui perché tanto se va bene l'Atalanta con le probabilità lo riscatta quindi sarà un giocatore dell'Atalanta se va male non penso che comunque rimarrà al Milan anche se dovesse far male quindi non ci siamo troppo amati in generale e anche qui qui si invece nel dispiacere parecchio perché l'acrimonia proprio con cui è stato in parte anche sbertucciato dei propri tifosi del chetelare è qualcosa di molto interista e non ci appartiene onestamente se un giocatore un giovane giocatore tra l'altro che non ci stava facendo nemmeno danno perché non è che era un giocatore che si faceva espellere oppure si impegnava poco perché anche questo è stato detto ma lasciamo perdere sbertucciarlo così prenderlo in giro e trattarlo come il primo scappato di casa che passava con la nostra maglia parte che giocava per il Milan quindi non ne trova nemmeno il la bellezza di prendere per in giro un ragazzo di 21 anni che arrivava da 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 Bruges a giocare per la nostra maglia però tante anche in questo caso come come ho scritto nel titolo per me sono state due partenze intelligenti alla fine per tutto quello che abbiamo raccontato finora le novità del Milan di Pioli vediamo come come andrà in campo il Milan con in probabilità Davide Calabria ce la fa ce la fa ad essere titolare quindi con Davide ci saranno Malik Ciao e eh Ficario Tomori insieme a Tio Hernandez in difesa con Reinders e Krunic e Lotto Cic a metà campo Pulisic Girù e Raffaeleao come abbiamo detto anche con eh con Carlo Pellegatti è una sorta di lunghissimo per partita nell'ultimo mese quello che abbiamo vissuto perché da 30 giorni a questa parte sappiamo al netto degli infortuni che questa sarebbe stata la formazione che sarebbe scesa in campo a Bologna e che è stata provata riprovata è stata provata nell'amichevole almeno per tre a quattro volte in in più di un amichevole in più di un amichevole di vario tipo con varie diciamo così eh vario peso anche dell'avversario stesso eh spero di vedere un Milan che possa prendersi i tre punti perché le tre big vere e proprie del campionato hanno dato un piccolo segnale alla stagione cioè ci siamo e ci siamo ancora eh mi piacerebbe che lo facesse anche il Milan che non partisse con piccolo grande passo falso per non disperdere in parte l'entusiasmo dato dai tanti acquisti per non disperdere anche eh quello che può essere eh l'approccio dei nuovi acquisti perché se inizia a partire con un po' di handicap poi iniziano a sorgere qualche problema di troppo in ambientamento e quindi insomma vince l'aiuto anche ai nuovi ad ambientarsi in maniera eh migliore rimango della rimango della mia in alcune in alcune zone di campo ci siamo rinforzati parecchio e non te ne negare che adesso ci siamo rinforzati forse di due gradini rispetto a come eravamo rispetto a proprio all'anno scorso tra pulisi ci sarà ci quese insomma non non c'è storia ma sono anche giocatori diversi e anche una tipologia di calcio diverso quella che vorremmo avere in quella zona di campo le due mezzali credo che al netto di di qualche diciamo così elucubrazione un po' un po' entusiastica sui centrocampo dell'Inter migliore d'Europa credo che eh sia al pari di quelli di quell'italiano per quanto riguarda le mezzaglie eh ovviamente sto facendo un discorso che riguarda praticamente solo e soltanto loftus chic e reinders in questo caso eh musa lo vedremo se quando quando sarà a disposizione domani o meglio stasera eh stasera non sarà a disposizione quindi non lo vedremo perché ha rimediato una squalifica nell'ultima di liga contro il eh ancora in maglia del Valencia e quindi oggi non è a disposizione di Pioli però lo vedremo nel prossimo futuro quello che ancora un po' mi lascia perplesso ma non è tanto perché per forza se giochi 4-3-3 quello davanti alla difesa deve essere un regista puro e se non c'hai il regista puro non puoi giocare a calcio no non è questo è che penso che Rade Crunice sia un anche in alcuni tratti di di carriera o di stagione anche un ottimo calciatore che può fare anche delle ottime prestazioni come è stato l'anno scorso ma per essere un calciatore di alto livello lo devi garantire questo alto livello per almeno venti ventuno ventidue partite sulle 40 circa stagionali e poi non scendere soprattutto di livello in quelle dove magari non sei da 7 da 8 ma avere un rendimento da eh da 6 ecco Rade questo passo di grande ripetitività della prestazione a medio alto livello a 30 anni io non ce lo vedo che lo possa fare poi spero mi stupisca e spero che che il Milan abbia valutato bene questo eh quindi non ne faccio nemmeno una questione proprio di è un regista non è un regista in quella posizione di campo sarebbe stato meglio uno con i piedi buoni piuttosto che uno più tattico più fisico eh ne faccio proprio una questione di di livello insomma il livello ad esempio di Ismael Benasser che in teoria dovrebbe essere il titolare del ruolo è ben altro eh abbiamo delle mezzali di ottimo livello probabilmente ne avremo addirittura tre con se Musa confermerà quello che abbiamo intravisto in questo eh in questo primissimo scorcio di stagione le primissime amichevole comunque eh lo vedremo all'opera sul centrale mi mi tengo un po' di dubbio ecco tutto qua eh poi lo so che iniziamo l'azione dando magari più palla rendersi anche se si abbasserà un po' più rendersi eccetera insomma non è quello il discorso non voglio ripetermi troppo eh spero che il nostro centro campo possa rendere per quattro mesi cinque mesi aspettando Ismael Benasser all'altezza di quello che verrà chiamato a fare una stagione di alto livello in Serie A e di una terza fascia di Champions League che quindi per permetterti di passare il turno deve passare eh indenne dalla prima e dalla seconda dalla squadra della prima e dalla seconda fascia eh di Champions League chiuderei con il mercato che in parte insomma era anche l'argomento eh di cui stavamo parlando poco fa eh non so cosa ne pensate voi scrivetecelo anche nei commenti ma insomma mi leggo anche durante obbligo di riscatto quindi i vostri commenti eh come detto dal prossimo dal prossimo interiore li vedrete anche comparire qui sotto in veste grafica proprio per avere un dialogo e non solo una sorta di di podio dove uno si mette eh su su tre gradini e inizia a parlare così ehm è anche bello avere un dialogo a distanza e indifferita ma averlo per davvero eh credo che il mercato del Milan sia stato per ora un ottimo mercato ha bisogno ancora di un paio di pedini importanti a centrocampo per me sarebbe stata cosa buona e giusta mettere un giocatore davanti a difese di diverso tipo e di diverso rendimento eh rispetto a Rade ecco la butto lì come provocazione ma Rade Kronic non sarebbe stato un ottimo backup di Loftus Cic piuttosto che un titolare centrale dei tre ergo provocazione delle provocazioni piuttosto che prendere Musa ma non tanto perché non è bravo Musa ma perché forse ci serviva qualcos'altro invece di andare a prendere Musa visto che Kronic comunque è vero ha detto a Minister Pioli che gli piace più giocare davanti alla difesa ma anche per struttura fisica per tipo di inserimento per tipologia di giocatore poteva tranquillamente farla mezzà la cosa che ha sempre fatto in carriera forse prendere un centrale e non Musa quindi prendere davvero uno specialista del ruolo lì in mezzo eh non sarebbe stata una cattiva idea a meno che insomma Ismael Benasser non sia dando qualche garanzia in più di poter entrare almeno nei tempi giusti e quindi riaverlo intorno o poco dopo eh le vacanze di Natale o quantomeno alla ripresa del campionato in gennaio però per quanto riguarda il mercato vediamo stasera l'arrivo di Marco Pellegrino a Linate lo andremo a prendere no perché oggi c'è c'è Milan Bologna c'è scusate c'è Bologna Milan su tutti e quindi eh Marco Pellegrino arriva Linate domani o meglio eh domani mattinata sosterrà le visite mediche e il Milan avrà un nuovo difensore centrale e questa sì mi pare cosa buona e giusta eh assolutamente sì perché rischiavamo davvero di essere un po' corti eh un po' per l'alternanza di Pier Calullo in due ruoli che volente o non volente c'è perché Davide Calabre e Alessandro Florenzi qualcosa per strada in stagione purtroppo le loro carriere parlano un po' così eh lasciano per strada proprio a livello di infortune di presenza quindi avremo bisogno di Pier in quella situazione di campo ergo con Simon Chier che in questo precampionato non ha dato grandissime risposte e eh insomma avere un terzo centrale un quarto centrale giovane di affidamento fisico e quindi ci sia eh un po' come era Matteo Gabbia l'anno scorso quindi comunque alla bisogna c'è un altro centrale e in questo caso anche un centrale di diverso tipo rispetto a Matteo quindi un giocatore forse un po' più tecnico un po' più veloce eh un po' più simile a quello che eh viene chiesto al centrale del Milan mi sembra un'ottima cosa poi giudizio su Marco Pellegrino difficile darne perché era la prima stagione in Argentina mi sembra anche sbagliato dare una un giudizio su un giocatore così giovane che conosciamo e io onestamente conosco anche molto poco eh per la punta io io rimango semplicemente sul su quello che era l'idea dell'anno scorso che mi pareva anche corretta e che penso venga fatta anche quest'anno ovvero le nostre tre punte si dividono in Olivier Giroud l'alternativa Olivier Giroud e un jolly che possa giocare anche al posto di Raffaeleao l'anno scorso questa alternativa era anti Erebic quest'anno è Okafor come tipologia di giocatore che abbiamo in rosa Orighi doveva essere il backup di Giroud e così non si è dimostrato anzi per nulla per mille motivi e quindi questo giocatore andrà preso e poi c'è Olivier Giroud con un anno in più e quindi io per Oli tenderei a pensare in negativo per non rischiare di rimanere scoperto mi spiego se Oli Olivier Giroud garantisce 50 partite siamo tutti felici e contenti a 37 anni se Olivier Giroud ha 37 anni come giusto che sia ogni tanto alza la mano e dice ragazzi oggi non ce la faccio a fare che so domenica mercoledì domenica con mercoledì la Champions è capibile e tu ti devi far trovare pronto non solo con Okafor ma anche con un attaccante diverso magari anche semplicemente a partita in corso partita chiusa magari Olivier Giroud è stanco all'ora di gioco se hai bisogno di mettere peso in campo nell'ultima mezz'ora non puoi mettere Okafor perché è tutt'altro tipo di attaccante se hai bisogno di riempire dell'area di rigore e Giroud è stanco dopo un'ora di gioco devi mettere un altro giocatore non con caratteristiche identiche a Giroud ma che abbia comunque nelle sue caratteristiche il lavoro di area di rigore. Detto ciò siamo arrivati praticamente in chiusura di questo editoriale io vi saluto e vi do appuntamento tra poco per obbligo di riscatto e le vere e proprie novità di mercato con nomi e cognomi noi torniamo come al solito invece in diretta per lanci talk pre e post partita perché oggi il Milan torna in campo per l'esordio scrivetemi qui se siete fiduciosi sfiduciati se siete contenti di quello che è stato fatto e quindi siamo comunque una squadra che si può giocare lo scudetto perché il Milan deve partire per vincere lo scudetto quest'anno come sempre nelle ultime stagioni e quindi sei all'altezza delle squadre che hanno vinto durante la prima giornata e che sembrano essere quelle che poi si contenderanno lo scudetto Juve, Inter, Napoli e speriamo di aggiungerci appunto il Milan. Buona giornata a tutti, buon campionato come dicevo al buon Maurizio Mosca, è stato un piacere ricominciare la stagione qui con il primo editoriale, ci ritroveremo tutti lunedì da adesso in poi fin quando la stagione terminerà.